benvenuti amici di piccole magazine piccole trascensioni e anche a tutti quelli che hanno visto e sono stati anche nel talent show questa settimana scorsa a milano in cui oggi per voi in esclusiva abbiamo un'intervista più approfondita per conoscere un po di più a questo nuovo talento questa nuova artista bellissima stupenda lei è talita che è stata la vincitrice al talent show a milano il 10 di questo mese dicembre infatti bellissima che anche un bel vestito di natale talita come stai grazie mille ciao bacione a tutti sto bene sto benissimo piacere di rivederti di poter parlare di nuovo con te quella serata stupenda in cui hai vinto quella bellissima coppa che hai accanto a te sì sì certo sono felicissima anche io sono davvero felicissima bene sa che noi anche condividiamo quella gioia insieme a te insieme a tutte le altre artiste che sono state in quella serata è stata una serata realmente meravigliosa una serata in cui non mi stancherò mai di ripetere incredibile indimenticabile speriamo che già tra poco venga la prossima il prossimo talent show talita infatti sappiamo che per il talent show dietro c'è una preparazione una disciplina e soprattutto una cosa importante la decisione di poter dare quel passo e dire io voglio essere lì cosa hai pensato tu al momento in cui hai visto la pubblicità del talent show quando hai contattato la direttrice prima di tutto vorrei ringraziare a piccoli magazzini a te Dani che è sempre stato questo appoggio immenso a tutti noi ringraziare anche a Pamela Anderson e a tutti e io sono io era a casa e quando ho sentito il mio telefono che era era un sonoro che era Pamela mi invitando a fare parte di questo concorso e io non credevo guarda qui io non credevo mamma mia cosa vado fare Pamela non non voli non voli ah Pamela talita devi fare vai avanti vai faz questo vai così vai così ok Pamela va bene vado avanti ma però io devo studiare bene cosa vado fare e a cantante che vado fare a lei ha detto a lei ma io ho detto ma io ho detto a fare e lei ha detto ho sapato a chiama con quindisi giorno io che amando a Pamela ci mi invito a va a dire e dito Pamela già cerca a mia cantante ma cosa va fare ci vado fare rihanna mi sono va fare rihanna segura sì sim figurissima mamma mia complimenti e dai avanti Sono andato a cercare la storia di Lei, l'anno di nascita di Lei, dove Lei era nascita, ho scoperto che Lei era nascita in una piccola isola, a 1988, che Lei non è solo una cantante, ma Lei è un'icone completissimo. Lei è cantante, è imprenditrice, è atrice. Quanto mai sono andata a cercare la storia di Lei, sono stato più emozionato ancora. Bene, stupendo. Infatti, perché, come ti dicevo all'inizio, sempre che uno fa quella scelta e poi rappresentare un personaggio, come dici tu, una icona a livello mondiale, come Rihanna, quindi che l'è rappresentata stupendamente, abbiamo potuto vedere tutti noi e a chi non ha visto, vi invitiamo a vedere sulle piccole magazine TV quella serata, quella diretta che è stata meravigliosa. Rihanna è sempre un personaggio fortissimo davanti al pubblico, tu sei stata anche in quella serata molto impattante, anche con quegli occhiali che infatti possiamo vedere lì. è una forza incredibile. Quello, sinceramente, è formarsi come artiste, formarsi come talento, sviluppare il talento, ma hai scelto Rihanna perché ti identifichi con Rihanna o ti è venuto in mente come quella che attirava di più l'attenzione su di te? No, io sono circa Rihanna perché mi identifico con lei. La storia di lei è bellissima. Lei, quando aveva 16 anni, lei è una storia che il suo papà era breago e cacciava sempre a sua mamma e io, diciamo, risulto un po' questa storia di lei. E per questo che mi curpito totalmente, perché quanto mai fareva la faria circa di lei, che mi emocionava. E visto che lei tirò un problema di coloro, ma perché in suo paese, in Barbados? Perché lei, in verso, lei è una nera, ma è però di una pelle bianca, non è di colore. Quindi lei ha vissuto questo tipo di preconceito, ma non perché lei era nera, ma sì perché era una ragazza di pelle bianca, che era una pelle diversa di tutto lì da l'isola, diciamo così. Sì, 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 infatti perché quella isola si caratterizza per essere persone un po' di un colore più oscuro di pelle. È vero, infatti. Allora, quando hai iniziato a fare le pratiche, com'è stata quella parte di tanta disciplina? Come hai iniziato le pratiche? Cosa hai messo in mente? Hai provato vari vestiti? E raccontaci un po', perché quello sinceramente permette che i prossimi talenti che saranno presenti nella prossima edizione del Talenti Show possano sapere come si svolge questo. Sì, certo. Prima di tutto, quando fai la scelta di cantante che ti vai a fare, devi avere disciplina. Quindi mettere avanti e fare tanto, tanto, tanto esercizio. Per esempio, io ti dico un esempio. Io cantava in camera, cantava a Rihanna. In banho, cantava a Rihanna. Quando c'era parte che andava, io cantava a Rihanna. mio esposo, mamma mia! Fai, mati, mati, mati! Non è tutto, ma è più, senti a Rihanna. Amor, ma non voglio fare Rihanna. Non devo andare come lei, devo me portare, camminare come lei, devo me portare come lei. Non, amor, per favore, fida mi, fida mi. Ah, amore, ti l'ho qualcosa che ti vai fare per me. Vai transformare la musica di Rihanna in MP3 e vai mettere Anki nel mio telefono e mette Anki con la TV perché così già guardo tutto insieme. E adesso come si trova lui oggi, dopo che ti ha visto, vince che ha visto che... Mamma mia, Dani, dopo che ho visto lui, mamma mia, sono felicissimo, amore. Guarda che sono felicissimo. Finalmente, infatti, è finito. Ma però, no, ora sono cercando anche di più. Bene, bene. No, quello è bello, sai, infatti. Prima di poter condividere quella esperienza perché sappiamo che quando c'è una persona accanto a noi che ci dà quella forza, il supporto, uno trova ancora più sicurezza, uno va più avanti e si trova anche più preparato, no? Allora, quando ti sei trovata in quella serata lì davanti a tante altre artiste che sono state lì insieme a te, cosa ti è venuto in mente? Perché sappiamo che a volte l'ansia ci invade, vogliamo... Siamo un po' nervosi. Come ti sei trovata? Come sei riuscita a fare quel bellissimo spettacolo? Mamma mia, quando sono arrivata in albergo, no? Nel mio albergo era un mistero. Nessuno fa vedere la roba, Nessuno va vendere il vestito e nessuno va vendere il truco. E io invece, semplicissimo, questa è mia gona che vado a indossare, questa è mia scarpe che vado a indossare, e tutto era quel mistero. E io visto che aveva, a ragazza che era a checa, le altre cantanti, a che, diciamo, era tutto molto glamour, molto brillante, e mia roba, mi vestito non aveva nulla. ma mia, ma cosa che sto facendo quasi, quanta paura, vivendo tutta quella ansia, quella ansia, quella ansia, e a ragazza tutto, tutto è fantastissima. Mi ha dato un appoglio tantissimo, da inizio. E talita ti crede, ti vai arrivare, no, ma guarda, tua roba, ti l'ho a piuma, a mia non ti l'ho a piuma, a tua ti l'ho, ti l'ho tutto, a mia non ti l'ho nulla. È un nero, è un nero, come si dice in Brasile, è un nero basico. No, che bello, perché quindi vuol dire che hai creato tra le... una amicizia, una complicità, anche al momento, è bello, perché ci fa anche volere il momento, ci fa anche sentire come in famiglia, no? Come dire, no, questo è uno spettacolo, quello lo facciamo, però sinceramente sappiamo che non è facile, non è facile, perché anche avendo una giuria, come è stata quella sera, cosa ti è causato più impatto dalla giuria, dall'opinione di ogni persona che ha conformato la giuria in quella sera? Quando ho sentito il primo decci, ho detto, mamma mia, non so se... davvero sono arrivata che ho sentito la parola della dottora italiana che ho sentito lei parlare e hai toccato proprio nel mio cuore perché questa questa musica che è fatta che mi remette a tanta cosa, mi fa ricordare tanta cosa, che questa questa musica di Liana può dire che sei un diamante, che sei una gioia, che si rinace, è come una estrella cadente, che cade e rinace. quindi dopo ho sentito Katusha parlare, Talita sei stata brevissima come sei andato, come tutte le veste, tutti, io sono stata emozionadissima con tutti. Bene, 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 davvero che perché a volte quando sentiamo diciamo la giuria ancora provoca più a mangiarci le unghie. Allora, Talita, quando sei stata già nominata come la vincitrice di quella serata, raccontaci un po' come ti sei trovata a livello personale davanti alle altre partecipanti che come te sono state, hanno fatto anche dei bei spettacoli e sono stati, diciamo, non sono state scelte come te, però sappiamo che hanno fatto una bellissima presentazione perché personalmente lo devo dire, lo posso dire, che sono stato lì quella serata e è stata piena, piena, ricchissima di tanto arte, tanto spettacolo, vestiti, un show incredibile, un'organizzazione stupenda e anche ovviamente il posto era meraviglioso. Le tue amiche, le partecipanti, cosa ti hanno detto dopo che sei stata vincitrice? Quando sono stata vincitrice che hai visto, ho detto, ho anche la foto del piccolo magazine che era tutto insieme, mi abbrassati e ho detto, Talita, io ero allì in divano e guardavo il tuo spettacolo e il tuo spettacolo davvero sei stata pulita. E io sono stata emocionata, sono stata felice perché era una ragazza che non conosceva, che anche non mi conosceva, che mi ha dato tutto il appoggio. Sono stata emocionata anche ancora di parlare di loro, perché, come ho detto prima, loro mi hanno dato tutto il appoggio, tutto, 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 che neanche io aspettavo. E sono stata emocionata lì sul palco con lei, con tutto e quanto, che lei mi abbrassava, mi baciava e mi augurava. E era una cosa che non so come ti spiegare, perché sono stata bravissima anche tutti loro. Sono stata brava, bellissima, sono stata tutto loro. E cosa ti piacerebbe dire oggi che sei a casa, che sei adesso anche in questa bellissima epoca di Natale e che già ha finito quella serata? Cosa ti piacerebbe dare come messaggio a loro, le altre concorrenti, le altre partecipanti che sono state e che adesso guarderanno questa intervista? oggi io ti respondo un po' calma, perché prima quando ti mi fattano con questa estensa domanda io non ho risposto nulla. Io vorrei ingraziare prima di tutto al Piccolo Magazine, ingraziare a Pamela Andes al Talente di Show, io vorrei ingraziare a mia sorella Nicoletta da Sneve che tu conosci, vorrei ingraziare a Luba, a mio esposo, tutta mia famiglia e a messaggio che io lascio per tutto quanto tu ti fai è che credere credere perché sono in un stato due anni tutto che usa casa e godere di questo bello momento ora godere di tutto 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 prenota che vaccino che è importante più importante di tutto pensa nella mia salute e nella salute di una prossima persona e il messaggio che io voglio dire che sono emozionatissima che andiamo avanti siamo pronti ad andare avanti ti chiedo una cosa gentilmente che mi piace perché mi piace quando le persone così come te che hanno quel spirito quell'energia bellissima che stai trasmettendo attraverso la camera mostraci la coppa che questo sono sicuro che gli darà tanto piacere a tutte le persone diranno quella sarà mia la prossima edizione del Talentice ragazzi si prepari tutto che la prossima potresti essere tua questa coppa bellissima che è il mio occhiale di Rihanna qui a Colonna che anche ho fatto la peschisa di Colonna di Rihanna che ho sette e ho messo uguale allora questa bellissima coppa bella 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 sinceramente è una cosa stupenda noi che siamo stati lì davvero posso dare fede di quello quella meravigliosa quella stupenda incredibile partecipazione di tutte le partecipanti anche del pubblico della giuria alle persone del posto sinceramente tutto è stato un'organizzazione impeccabile infatti adesso non vogliamo finire questa intervista perché sinceramente mi fa tanto piacere mi piace quando una persona così si realizza si trova bene da dei messaggi positivi siamo in una epoca già che siamo a giorni del Natale un giorno in cui a volte non ci siamo con la nostra famiglia a volte tante persone siamo lontani a volte pensiamo che non abbiamo già il potere di poter realizzare i nostri sogni i nostri progetti e tu che sei un esempio di tutto quello qual è il tuo messaggio per tutti loro e anche per tutti noi credetci 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 non dimenticare mai di crederci perché tutti noi siamo nel settore voglio ringraziare anche la mia costumista che Adele Ferraz lei è stata stupenda nel mio costume credetci tutti voi Dani grazie auguri a tutti un bellissimo splendoroso energico Natale così si fa ci vediamo nei prossimi eventi perché sappiamo che tu ancora hai tantissima carriera da sviluppare da portare avanti e ci vedremo più spesso in altri eventi della mano di Fabiana Andres un abbraccio gigante e tantissimi auguri da parte nostra grazie 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 piccoli magazzini grazie di tutti grazie del cuore grazie a tutti 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 grazie a tutti